Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che otto imprese hanno partecipato a questa prima fase della fase di progettazione del nuovo ospedale universitario di Trento e quindi guardiamo con un favore a questo primo passaggio, questo primo passaggio che porterà poi alla fase progettuale, una volta scelto l'impresa interessata e poi finalmente all'avvio dei lavori dell'ospedale di Trento. È un passaggio, io dico, importante perché testimonia che il lavoro del commissario sta procedendo e sta procedendo secondo i tempi stabiliti e secondo i percorsi che c'eravamo prefissati. Quindi l'obiettivo è la costruzione dell'ospedale, a fianco delle vicinanze ci sarà la facoltà di medicina e quindi si parla di un ospedale universitario per la comunità trentina.